Ciao a tutti, sono Giulia D'Amato di Startup Geeks e oggi con me c'è Andrea Massenz, founder di TechMass. Ciao Andrea! Ciao Giulia, grazie per l'intervista. Grazie a te Andrea. Ci vuoi raccontare un po' chi sei, cosa hai fatto prima di arrivare a fondare la tua startup? Volentieri, allora mi chiamo Andrea Massenz, sono padovano di origine, ho studiato, ho cresciuto a Bassano del Grappa, un po' a nord, ho studiato ingegneria biomedica a Padova in triennale, ingegneria elettronica e specialistica, con una bolsa di studio mi sono trasferito negli Stati Uniti, per quasi tre anni ho vissuto in California e mi sono laureato anche lì in ingegneria elettronica, per poi iniziare la mia carriera professionale in Germania, nella parte est, vicino alla Repubblica Ceca, dove per circa sei anni, cambiando città, ho lavorato per il gruppo, la multinazionale Procter & Gamble, in diversi impianti manifatturieri. Quindi l'idea iniziale non era di diventare un imprenditore, era di lavorare in una multinazionale? No, in realtà è sempre stato un obiettivo quello di fondare la mia azienda, è sempre chiaro, però ho approfittato delle opportunità che si sono presentate nel corso del tempo, ho cercato comunque di costruirmi, di formarmi in qualche modo professionalmente, di assorbire quanto più possibile da un'azienda strutturata, in cui ho imparato ad apprezzare i processi e via dicendo, e quando poi una serie di elementi si sono messi insieme, ho fatto il passo, però sì, è sempre stato un obiettivo in qualche modo. Eh, infatti la tua storia, noi ci siamo già sentiti al telefono, è anche un po' particolare, cioè ci siamo rivisti io Alessio perché dalla Germania hai fondato qualcosa in Italia, però tu vivi ancora in Germania, giusto? Se non sbaglio. Esatto, sì, sono a Colonia infatti, casa mia è qui, è nata in Italia, sì. Ok, ma quindi quando hai deciso di fondare la tua start-up stavi ancora lavorando per Procter & Gamble? E hai avuto un'idea, quindi, che hai voluto portare avanti poi da imprenditore, giusto? Si può spiegare un po' in che cosa consiste, così capiamo un po' meglio i vari passaggi? La dinamica è corretta, in realtà prima di fondare questa azienda, tra l'altro il nome Techmas mi fa venire in mente, era il nome che avevo utilizzato in California per partecipare a delle competition di business plan, e a suo tempo era l'idea, il progetto era dispositivi per identificare persone sotto i terremoti, a seguito di terremoti. Ah. Vabbè, insomma, il nome poi l'ho ripescato più avanti. Prima di fondarla avevo già tentato con il mio ex capo, a quel tempo lavoravo per la Vella, ho lavorato per i Pampers, per la Brown, Gillette, stavamo sviluppando un concetto di una, diciamo, catena di postazioni per la vendita di cibo salutare. Comunque, quel progetto non è andato, non è andato, e si è ripresentato, appunto, dicevo, sono state una serie di fattori a combaciare temporalmente per darmi poi il là. C'era da un lato, in qualche modo, la mia maturità personale, dall'altro un insieme di situazioni, questa, io sono nell'ambito adesso industria 4.0, di cui tanto si parla, comunque produzione e manufatturiera. Era quando decido di, io ho smesso a P&G esattamente due anni e tre settimane fa, era il primo aprile 2017, già allora si parlava abbastanza di industria 4.0 ed è un tema che è sempre più concreto, sempre più veale. Quindi la tua startup l'hai fondata da solo in questo caso o hai avuto qualcun altro come co-founder? Inizialmente sono partito da solo, in maniera diciamo molto lean, prima di lasciare P&G, una volta formalizzata l'idea, a grandi linee, ho contattato alcuni ex colleghi che nel frattempo si erano spostati e lavorare in altre grosse aziende, proponendo loro fondamentalmente un powerpoint, mostrando quella che era l'idea, chiedendo loro se il problema che il dispositivo nostro voleva risolvere effettivamente un problema concreto e se la soluzione proposta sulla carta era interessante e se sarebbero stati disposti a comprarla qualora esistesse. Dopo aver raccolto tre sì, ho deciso di buttarmi. L'idea era chiara perché avendo lavorato, ho accennato prima nella vella, ho fatto ingegnere dei processi, ottimizzazione delle linee, ho gestito il gruppo di manutentori, ho installato sistemi MES, se sta per Manufacturing Execution System, che è l'area in qualche modo in cui mi colloco, ho lavorato poi per i P&P su mezzo, su blockchain, avendo avuto un'esperienza da utilizzatore in qualche modo il bisogno del cliente e soprattutto i problemi delle soluzioni tradizionali mi erano molto chiari. Mi mancava tutto il lato tecnologico, ho cercato i collaboratori, cercando in realtà poi per me sono stati il tuo founder, è una società di Marostica in Milano, uno dei fondatori era all'università con me, Pado, e con loro abbiamo dato via il progetto. Sono sempre stati, sono particolarmente bravi a sviluppare soluzioni digitali, innovative, con un forte taglio di user experience, con loro abbiamo portato tutto il know-how creando un prodotto dal taglio giusto per il mondo manufatturiero. Ok, se vuoi brevemente farci capire qual è la soluzione che avete trovato voi? Sì, no scusa, volevo accennare, volevo dire il loro nome, Crispy Bacon, sono sicuro apprezzerebbero, apprezzeranno, pur non essendo più nella compagine sociale oggi di Tecmas. Ok, quindi allora cosa fa Tecmas in brevemente per farci capire? È un prodotto che si fa da tanti anni, ovvero a grandi linee misurazione e miglioramento della produzione, rientra in qualche modo in una categoria di prodotti esistenti, si chiamano MESS, Manufacturing Execution System, stanno cambiando il nome ma è una cosa che si fa da tanto tempo, lo fa in una formula o in un modo molto più semplice, molto meno invasivo, dal mio punto di vista migliore in diversi aspetti e con un modello di business differente rispetto alle soluzioni tradizionali. Cioè, un qualcosa che si faceva, fatto in maniera più economica e secondo me migliore per tanti aspetti. Quindi sono un prodotto B2B, però, perché? Sicuramente B2B, i clienti sono aziende manufatturiere. E adesso entriamo nel vivo, Andrea, quindi. Come mai l'hai fondata in Italia? Cioè, prima l'hai fondata in Germania, se non sbaglio. L'idea è nata quando ero tuttora in Germania e ho creato una società in Germania legalmente e dopo pochi mesi l'ho portata in Italia. Il perché? Allora, diverse ragioni. Ci sono quelle più pratiche e pragmatiche e ci sono quelle più idealiste, diciamo. Quelle più idealiste suonano meglio, quindi te le raccomando. Vai, vai con quelle per prima. Che penso che siano simili alle nostre, quindi. Avendo vissuto tanti anni all'estero, in America, in Germania, ho avuto modo di apprezzare sempre di più le qualità nostre, di italiani, del nostro paese, la nostra cultura, la nostra storia, la nostra tradizione e anche, ovviamente, vederne i limiti. Occupandomi io di manifattura, avendo il desiderio comunque di sempre contribuire in qualche modo in questo mondo, mi è molto piaciuta l'idea di aiutare le nostre aziende manifatturiere, la nostra storia, la nostra tradizione, a rimanere competitiva nel mercato. Questo è quello che alla fine fa il sistema, lo sforzo di cosa facciamo, ma il perché è in qualche modo la competitività. Quindi l'idea di aiutare il mio paese a rimanere un player nel mercato era ed è uno stimolo. Questo è l'aspetto. Lato pratico innanzitutto perché il team con il progetto Nato, che ho appena accennato, era basato a Marostica, numero uno. Numero due perché il piano calenda, l'industria 4.0, due anni fa, ha iniziato a muovere molto le acque e in senso buono, cattivo che sia, o comunque considerando poi i pregi, i difetti della riforma, comunque è stato uno stimolo importante. Abbiamo appunto anche delle agitazioni tramite bando regionale Veneto. Il mercato manifatturiero italiano, ti sto dando una serie di ragioni, perché il mercato manifatturiero italiano comunque a livello europeo è al secondo posto, dopo la Germania. Non ti nascondo che, pur avendo vissuto sei anni in Germania, la burocrazia tedesca non è particolarmente più semplice della nostra e il linguaggio arcaico di cui mettiamo noi in Italia è uguale in Germania. Io avevo amici tedeschi ai quali chiedevo supporto e francamente mi dicevano non ho idea di cosa ci sia scritto. Quindi in qualche modo le difficoltà burocratiche in una lingua come il tedesco... Che hanno fatto passare la voglia. Tanto al giorno d'oggi voglio dire la mobilità di oggi è una mobilità europea nel senso vivere a Colonia e lavorare in Italia secondo me ho tanti amici che vivono in una città e lavoro in un paese diverso settimanalmente quindi non ci sono più le barriere e le distanze di una volta. E i tuoi clienti sono sia italiani che tedeschi o avete un pubblico solo italiano? Sono anche... Le aziende più grandi in realtà i nostri clienti sono in Germania Enkel a Dusseldorf abbiamo Cow Corporation è il quinto produttore al mondo dei prodotti per capelli a Francoforte a Berlin c'è una corsa multinazionale americana fanno filtri per l'acqua e tanti altri prodotti si chiama Danher e abbiamo anche adesso stanno aprendo delle small medium enterprise in Germania abbiamo clienti in Francia Johnson & Thompson abbiamo clienti in Svezia in Spagna adesso anche in Messico Quindi non ti ha limitato insomma il fatto di essere tornato in Italia in questo senso? No assolutamente il numero maggiore di aziende è comunque italiana e il focus a livello marketing e sales fino adesso essendo una startup a risorse limitate è stato comunque l'Italia però no non è non è stato un limite anche perché la natura del nostro prodotto si presta molto a dinamiche anche estere io ho clienti dove non sono mai andato fisicamente ai quali ho venduto il mio prodotto per posta se lo sono installato configurato e e su questo hai consigli cioè come come si fa ad approcciare un cliente per una piccola startup un cliente grande e oltretutto anche non nella tua stessa nazione cioè che dinamiche hai utilizzato hai avuto delle difficoltà in questo oppure avevi già non so usato una metodologia con il cliente italiano oppure per la tua vecchia storia insomma per il tuo lavoro che ti sei portato dietro e quindi sapevi già quali erano i metodi giusti o più corretti per te insomma che funzionano con te non giusti in generale magari allora una serie di risposte non c'è il il silver bullet come si dice parte è stata la mia il network costruito durante tutti gli anni di Procter & Gamble quindi ex colleghi ex amici che si sono trasferiti in altre aziende ai quali ho avuto la possibilità di presentare il prodotto e a volte sfrutto il fatto di essere una start-up partecipando a programmi ne abbiamo vinto uno da poco in Francia Focus Industria 4.0 per l'appunto e siamo stati selezionati le dieci start-up a livello europeo per collaborare con grosse aziende francesi e quindi ecco sfruttando il canale start-up abbiamo avuto la visibilità pur non avendo quasi mai investito nei siti web c'è comunque ci sono comunque aziende che ci trovano a parte questo ho tentativi anche perché le formule poi in Italia non sono le stesse all'estero le persone non sono le stesse la cultura non è la stessa secondo me però se una start-up fa un prodotto innovativo in qualche modo ha qualche particolarità che la fa emergere rispetto a allettante e riesce a sintetizzare questi elementi cogliendo il punto in un slide per dire le opportunità per contattare le aziende in qualche modo ci sono bisogna essere bravi a cogliere quella di attenzione e poi parte parte qualcosa di più ricordandosi che il tempo a disposizione è sempre poco quindi in una slide si deve essere tutto per attrarre almeno quel che serve per raggiungere lo step successivo che può essere banalmente una telefonata al di là di tutto questo l'elemento chiave imprescindibile è comunque la perseveranza nel senso pur avendo dal giorno uno avuto n riscontri positivi n complimenti n elementi che mi hanno fatto andare avanti comunque i no diretti indiretti insomma ovviamente ci sono sempre stati e ci saranno perché fanno parte della natura di qualsiasi business dal caso la perseveranza è una delle poche chiavi che permette di andare avanti vero e tu Andrea che hai lavorato sia in una multinazionale che adesso quindi in una startup è fondata la tua vabbè non ti chiedo qual è la tua preferenza perché insomma mi sembra che ti piaccia quello che stai facendo però che consiglio daresti a uno a un ragazzo che sta finendo adesso l'università di approcciarsi prima nella grande azienda come dicevi tu per farti un po' le ossa e avere il network poi giusto da rivenderti nel momento in cui vuoi fare l'imprenditore o di partire sbattendo la testa insomma nella tua piccola attività ovviamente per quelle persone che hanno un'idea senza dire devi farlo l'imprenditore anche se non ce l'hai ma anche qui non credo ci sia una risposta più vera neanche dal mio punto di vista nel senso se si ha un'idea valida e si è disposti a mettersi in gioco va benissimo a farlo anche come neolaureati o addirittura senza neanche una laurea anche perché quando c'è un minimo di intelligenza nella persona di fatto per crescere un'azienda significa identificare problemi e trovare soluzioni e questo è un approccio e una metodologia più che un qualcosa che si acquisisce può andare benissimo partire da giovani come pure nel mio caso io non avevo l'idea a quel tempo ho avuto la fortuna di poter lavorare iniziare a lavorare per una grossa multinazionale pur avendo sempre il chiodo fisso di aprire la mia azienda comunque negli anni cercavo di assorbire quanto più possibile mi testavo come team leader come project manager come collega come capo come dipendente cercando di diventare sempre più una figura professionale di valore in qualche modo sulle spalle dell'azienda quindi insomma mi faccio ho fatto su questa facilitazione diciamo io la vedevo così mi sto facendo le ossa e commettendo errori grazie all'azienda dando poi ovviamente in cambio il meglio il massimo quindi sì entrambe le strade secondo me hanno senso col senno di poi mi rendo conto che questa startup non avrebbe il successo che ha e non sarebbe apprezzata com'è se non avessi vissuto io in prima persona le problematiche le dinamiche quindi aggiungendo elementi lavorare in un determinato settore permette di conoscere quell'ambiente identificarne i limiti e potenzialmente trovare delle soluzioni potendo poi interloquire in maniera diretta e chiara con chi ha le persone che poi si rinderà quindi il vantaggio nell'iniziare una carriera è quello di conoscere un universo dipende poi da azienda azienda sì certo e c'è qualcosa che ti ha stupito del fare startup che non ti aspettavi sia il negativo che il positivo può essere mi ha stupito la capacità dell'essere umano di perseverare di resistere a immaginavo sarebbe stato un percorso difficile se ne parla all'inizio è stato estremamente difficile la cosa più difficile secondo me guardando indietro è stato gestire le emozioni quello tra tutti i problemi di creare un'azienda metterei quello per primo perché come dicevo prima di fatto si tratta di capire un problema definire un problem statement e trovare una soluzione iterativamente in tutte le aree dell'azienda quindi c'è un approccio razionale sulla carta funziona benissimo per qualsiasi tipo di azienda il problema è che condito con paure tensioni stress difficoltà paura di fallire tutto questo rende molto difficile il problema più grande scoprire che il problema più grande è la gestione delle emozioni e quello che mi ha stupito di più è comunque la capacità secondo me la flessibilità di continuare anche se che hai avuto quindi che stai avendo e che magari ritrovi anche nel tuo team questo dici sì e sono sicuro anche in tutti gli imprenditori nessuno ha la vita facile per quanto i casi di successo raccontati siamo rose e fiori tutte le storie di successo sono storie di fatica di sudori di spirit di insuccessi se non si riesce a gestire le emozioni è facile ci sono mille ragioni per i quali si può dire ok basta ok basta lo so bene grazie Andrea è stato molto utile allora un grande in bocca al lupo hai fatto la scelta giusta a tornare in Italia speriamo e ci aggiornerai comunque complimenti per i risultati anche in Francia è il tempo che lupo a voi grazie del tempo e ci riaggiorniamo presto certo ciao Andrea grazie grazie a te